Nel capologo Maremmano, dirigenti scolastici e presidente dei consigli d'istituto hanno deciso di prendere posizione in modo congiunto sulla recente emissiva inviata dalla provincia di Grosseto alle scuole superiori, con cui viene ribadita l'impossibilità da parte dell'ente di recuperare nuovi locali scolastici, con l'invito rivolto all'istituto di valutare l'opportunità di adottare un doppio turno da altri criteri di ammissione. Noi oggi abbiamo presentato un documento che ha visto la firma di tutti i dirigenti scolastici delle superiori di Grosseto, in cui segnaliamo questo grave problema. La provincia di cui capiamo assolutamente le difficoltà di natura economica ha comunicato a tutti i dirigenti l'impossibilità di individuare altri spazi per il prossimo anno scolastico, laddove dovesse esserci un incremento di iscrizioni, rimandando ai dirigenti scolastici nell'ambito della loro autonomia le possibili soluzioni. Bisogna essere schietti, anche nei confronti come atto dovuto, nei confronti delle famiglie che si apprestano ad iscrivere ragazzi alle superiori qui a Grosseto. Se così dovesse essere la situazione, non potranno che i dirigenti scolastici immaginare turni pomeridiani o addirittura in alcuni casi che faremo di tutto per evitare, addirittura chiamiamolo in numero chiuso. Cosa chiediamo? Chiediamo alla provincia di non rimandare semplicemente ai dirigenti la questione, ma di aprire un tavolo per trovare soluzioni, trovarle sia a breve termine, prossimo anno scolastico, sia a lungo termine. Noi siamo disponibili, ma siccome la competenza dell'edilizia è della provincia, l'ente proprietario degli edifici è la provincia, ci aspettiamo che la provincia, anche con la nostra collaborazione, possa mettersi al tavolo e studiare possibili soluzioni. Immaginare un turno pomeridiano in tante scuole, lo si faceva presente con alcuni istituti, dove fanno attività già pomeridiana per gli adulti o anche per gli stessi studenti che hanno degli orari prolungati, per certi versi non è neanche possibile. Non è neanche possibile, appunto perché l'orario non è per tutti, 8-1, si crea il problema dei pendolari, le scuole di Grosseto superiori accolgono moltissimi pendolari dai vari altri comuni, che ovviamente per quanto nella lettera il Presidente della provincia ci ha comunicato, ci ha detto che sarà sicuramente fatta una riunione, temiamo che sia molto difficile trovare una soluzione con i trasporti per la differenziazione delle varie esigenze e quindi i disagi saranno per gli studenti di Grosseto, che in qualche caso faranno turni pomeridiani e ancora di più per gli studenti che vengono da fuori Grosseto. Il problema è delle scuole di Grosseto, l'abbiamo fatto tutti i dirigenti scolastici e tutti i Presidenti del Consiglio d'Istituto. Non credo che negli ultimi anni ci sia mai stata un'animità di vedute di questo tipo proprio per segnalare la gravità del problema. Noi Presidenti del Consiglio d'Istituto non nascondiamo la nostra preoccupazione per questa situazione. Per questo motivo abbiamo deciso di muoverci congiuntamente con i dirigenti delle scuole superiori di Grosseto affinché le istituzioni, a partire dalla provincia, si impegnino a trovare al più preso delle soluzioni che possono preservare adeguatamente il diritto allo studio dei nostri figli.